musica 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 se non è un altro di quei dungeon da the legend of minecraft si perfetto no 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 rovina rovina perfetto rovina che culo devo fare qualche pozione però oh eccole qua si e la mador io andrei anche sopra allora anzitutto mi ciulo sta roba mi ciulo un po' così almeno se devo fare qualcosa con queste robe qua la faccio mi sembra che non si può fare più di tanto a parte quel macchinario lì minchia sto finendo la io ci muoio eh io ci muoio qua non vengo qui non vengo da secoli nel nero secoli dico ho dovuto fare anche le verghe di blaze ok ok livello 30 perfetto oh quanta esperienza qua livello 30 e io adesso sapete cosa faccio? io faccio una bella scala qua la bella scala non faccio assicoli di scala ottiti eccolo lì adesso cado nella lava guardate perfetto adesso scavo sopra la cesta allora innanzitutto mettiamo waypoint newpoint rovina eh no si può fare il teleport che culo si può fare si può fare perfetto sto andando proprio dalla parte giusta mi dicono putti oh quanti blaze ci sono un bel per sono full ferro col capo del cazzo vero che vero che mia 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 fortuna che non specca la spada così e meno male che sono partito da casa vuoto ok andiamo mi mi lagga cerchiamo qualche cesta ragazzi a calla almeno vediamo cosa c'è eeeh 8000 diamanti non voglio quella merda lì però il ghast che è un peccato non tanto per i blaze fa un culo allora per messico andiamo sopra mi riuscire a trovare la salita porca troia ah qua 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 io scappo un attimo altra cesta che culo eeeh oh che culo aspetta allora il cibo ce l'ho quello ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho beffè c'è anche lo zaino ah lo zaino vaffanculo io non perdo quella roba lì che cazzo non ha senso così piccole sono ok dai andiamo a massare i blaze ci facciamo l'allambicco e ci facciamo l'occhio in the nether dove che sono gli stranzetti oh oh c'è un pelo eccoli madonna 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 oh madonna oddio c'è uno lì oh 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 e l'ho preso oddio fanno malissimo fanno malissimo raga ragazzi fanno malissimo via 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 fanno malissimo raga no no ha droppato la verga credo ragazzi fanno malissimo maia c'è con colpo 5 cuori stiamo scherzando vero ditemi che state scherzando che togliono così tanto oh oh cuore cc non mi prendete eccolo lì presa ovviamente deve cadere giù l'altra ok due ce ne abbiamo oh salve c'è la cesta di prima ma devi riuscire oh potevo salire anche da qua aspettate che non voglio sprecare sapete com'è non voglio sprecare picconi oh perchè vado perchè vado così lento? perchè? allora ma mi sembra di andare lentissimo wtf allora ok qui c'è un uno scheletro normale e un silver eh si un silver un wither oh oh ok perfetto ah uno scheletro normale cazzo ci fa uno scheletro normale qui? eh bene questo nether non mi convince ok una scala messa così a minchia wither blaze peak moto oh moto no 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 oh succhia mi avete mancato via oh si ci stiamo un bel po' qua allora in di tutto devo ok recuperare un attimo vita eeeh andiamo via via oh 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 ok perfetto ah non voglio beccare il pig ok wither adesso e che cazzo a me si aveva la loro testa oh un pig eh lagga vado di qua vado di qua fa ancora il sistema ok eh aspettate che fa paura quel salto lì fa molta paura perfetto ok come collegare le rovine oh oh aspettate due secondi dovevo mettere questo eeeh che cazzo oi oh eh vabbè è cosa di wither che mi fa danno glowstone glowstone a me si aveva glowstone eeeh eeeh vaffanculo capo dai cazzo che vado lì gatto il piccone tenisce come niente oh ok altri silver cioè perchè dico silver? vi trovo qua il pirali fa per te quella madonna va fottiti te allora vai giù ok che culo che culo tre verghe che culo non mi ricordo quanto ce ne vogliono oh cac sus eh si li cado sicuro andiamo di qua mazziamo questo schereto qui perché c'è i schereto in ormai da quando? guarda sono i pig là c'è un altro blaze per il messico c'è un altro blaze ui 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 devo dire che sta andando abbastanza bene crepato dopo tre secondi guarda però questi pig troppano anche le pepite guarda figa attacchi uno figata attaccano tutti magma cube ok vediamo cosa si può fare con il magma cube andiamo di qua ok iga sto scherzando se ne sono un bel po' oh caccio in che corrono questi eh suca 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 ehi non voglio cadere non voglio cadere testa oh figa fanno danno puttana ok vabbè non è successo niente tranquilli non è successo niente solo ho perso tutta la mia esperienza ho perso oltre 30 livelli ma fa niente ragazzi si recupera tutto teleport adesso si tranquilli tranquilli adesso recuperiamo tutto eh no questo teleport 2 via 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 lagga ok boh fatto sarebbe una specie di cheat però vabbè ne valsa da più perchè una spada rotta? un carbone mettiamo allora ci mettiamo a posto un ottimo alimentario eh beh cazzo eh questi qua li metto dentro fa un culo cioè dov'è? ecco ui 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 suca uh ok andiamo di qua due secondi si 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 fai tutti rumore del mondo tanto non ti caga nessuno c'è una seria mentale porca porca to eeeh siiii quanti blaze poi c'è ero in ogni condominio c'è qua porca to' allora adesso usciamo raga eh adesso usciamo adesso usciamo quanti perché c'ho? ne avrò tre più o meno porca putt andiamo qui giù oh una cesta ho già presa no oh è un tacciarino che culo eeeh si mettiamo qui dentro ah cazzo non ho recuperato tutti non ho recuperato tutto avevo trenta qualcosa di queste cose qua no vaffanculo va un'altra cesta ridaglie oh altri diamanti hm si preferisco quale in diamante ah allora ragazzi sapete cosa faccio? io adesso vado a casa da tutta la cosa lì che oltre il grono avrete le porte giuro che c'è ancora il ghast l'ammazzo però io vorrei prendere anche un pochettino di glowstone ma vabbè dai c'è qua sopra è qua sopra è qua sopra la lava porca dai devo andare a chiudere la non c'ho voglia non c'ho sbatti no non c'ho sbatti raga veramente ok allora teniamo a casa mi si sono buggati i suoni forse perché sono entrato in chiamata io in teoria sono rinchiamato con due miei amici gli ho detto cioè con giuse e luca però è il fatti però gli ho detto io vado a registrare basta perfetto ho fatto una piccola pausa non so se si è vista spero di no ok io faccio quelle bombette lì eh si aspetta che arriva aspetta che arriva ok qua intanto ha fatto allora innanzitutto smistiamo questo qua questo e questo 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 e basta ah no ok questo questo allora la soul sand la vado già a mettere la Così almeno facciamo subito la roba Delle porzioni Mettiamo questo Ok Ah che belli sono i due portali Qui vicini Ah cazzo poi devo fare il cancelletto Ok Sì vabbè Domani Che poi non ho capito perché adesso Lo send è così bassa Ce l'hanno fatta a bassa di un pixel Oh vabbè Quindi ragazzi io direi di fare Le bombette che sono Della Adesso non mi ricordo Come si chiamano Cerchiamo bomb Queste qua Ok un filo e 4 gun power Gun power Gun power Quelli insomma Due solo Figa non ho il filo Eh niente ragazzi E che poi non mi bastano nemmeno questi Niente allora Adesso Ah aspettate Ah qua Sì Qua Anche il quarzo Si smista tutto bene Tam tam E perfetto Eh Da solo Farò anche Farò tutto con calma ragazzi Perché se no qua ci mettiamo a 33 secoli Quindi ragazzi Con questo episodio è tutto Se vi è piaciuto il video Come al solito lasciate un mi piace Anche a pagina di facebook Come sempre trovate nella descrizione Un commento e un'iscrizione E noi ci vediamo con il prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ti 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 Grazie.